C'è una chat che tu c'hai con Gilberto, in cui tu parli di una Valentina, chi è? La vede? All'inizio della telefonata tu hai detto chi è sta Valentina, non conosco nessuna Valentina. In una chat un tuo amico ti dice c'è anche Valentina con noi. Anche Valentina, verso le tre un quarto pronto? Ok, c'è anche Valentina. E' adesso con noi. Valentina, ragazzo del Marco, Valentina, ti chiami, tieni. Lui è preciso eh. Oh, aspetta. No, no, è preciso nel senso che hai subito la risposta pronta, le prove in mano, e la verità nelle tasche. A voi chiamo quando ti pare? Chiamola adesso. Chiamola a mano per le pare. Chiamola a mano per le pare. Il numero non ce l'ha, lo rimedio subito, aspetta. Il numero non ce l'ha, lo rimedio subito. Il numero non ce l'ha, lo rimedio subito. Il numero non ce l'ha, lo rimedio subito.